Allora, buongiorno a tutti quanti, benvenuti a questa sessione di questa sera, dove parleremo di come creare delle Azure Function in modo che siano testabili e come poi poterle anche monitorare. Vi presento intanto il team, noi siamo Sharp Coding, una community che ha fatto da poco un anno, questi sono i brutti ceffi di cui facciamo parte, mentre invece questa sera con noi c'è Massimo Bonanni, Technical Trainer di Microsoft. Vai Massimo, a te la parola. Bene, vabbè, poi i riferimenti, la brutta faccia la vedete alla fine durante la Q&A, ma tanto praticamente tutti voi purtroppo mi conoscono, purtroppo ovviamente per loro, quindi tanto grazie perché io adoro queste cose di poter parlare, non capisco perché mi è apparso un coso rosso qua a video, ma insomma ora lo cancelliamo in qualche modo, non ho capito perché, aspettate che lo togliamo, vediamo un po' come si toglie, probabilmente a video è successo, vabbè, ma non fa niente. Allora, io adoro far queste cose, in particolare oggi parliamo di testing relativo a leisure function e monitoring e parliamo anche di prezzi perché tutti quanti hanno in testa come funzionano, o meglio più o meno come funzionano, ma pochi sanno esattamente come vengono prezzate, mettiamo così cosa pagate, quindi tutti dicono, ah, abbiamo un milione di chiamate gratis, aspetta, poi lo vediamo esattamente come, perché è importante, no? Nel senso che uno sceglie una tecnologia perché non, in teoria dovrebbe scegliere non perché sia fica, ma perché risolve dei requisiti, tra questi requisiti potrebbe esserci la testabilità, il fatto di tenerlo sotto controllo perché poi quando andiamo in un mondo come il cloud le cose stanno in giro, quindi vanno tenute sotto controllo e il costo, per questo che ce l'ho aggiunto, questa sessione in realtà io già l'avevo fatta, è stata aggiornata e ho aggiunto la parte costo perché secondo me è interessante e importante, perché dovremmo testarla e tenerla sotto controllo? Perché noi vogliamo usare i nostri function come componenti di un'architettura enterprise e nell'architettura enterprise, che voi lo vogliate o no, le cose andrebbero testate, ok? Se ci pensate quando tutte le case automobilistiche fanno le macchine, prendono le sbattono contro il muro e non è che perché sono sceme, perché il test, in questo caso sbattere le macchine contro il muro, è essenziale, è essenziale per capire qual è il comportamento del componente, in quel caso la macchina, nel nostro caso il pezzo del codice, qual è il comportamento che mi aspetto. Non tanto perché voglio scoprire bug, quello ovviamente è un di cui, ma perché io voglio scrivere le cose che si comportino come io voglio. Primo. Secondo, perché una volta che ho una pletora di test, pletora credo che l'ultima volta che qualcuno l'abbia usato era il Manzoni durante i professi sposi, ma insomma va bene, ho una pletora di test, posso affrontare modifiche, nuove funzionalità, qualsiasi cosa senza rischiare di spaccare qualcosa chissà dove, perché se quei test funzionavano prima, funzionano anche dopo, probabilmente l'esise è a posto, poi chiaramente gli dovrò manutenere e la manutenzione è un problema perché in genere voi scrivete i test fichi, bellissimi, dopodiché restano lì, tipicamente quello che mi è successo in esperienze personali, voi scrivete i test, funziona tutto, poi la gente aggiunge cose, i test cominciano a non funzionare perché vanno manutenuti e quello che la gente fa è rimuoverli e non funziona così, ok? La Ferrari continua a sbattere le macchine contro il muro anche quando fa gli upgrade della macchina, non è che smette, ok? Quindi è importante, test perché ce l'ho a bordo, ce l'ho nel mio environment e voglio capire come funzionano, poi però quando li metto in produzione qualcosa storto va sempre e per capire cosa va storto devo avere la possibilità di monitorarle, ok? Perché non coprirò tutti gli scenari possibili e soprattutto non è neanche corretto andarle a coprire tutti quando faccio i test e quindi mi serve il monitor, i costi è meglio che io sappia quanto andrò a spendere così non ho sorprese, ok cominciamo, intanto un recap su cosa sono le functions, le Azure Functions perché così ci serve, è una delle tecnologie serverless che avete in Azure ma in realtà per come sono strutturate girano praticamente dovunque, è un'architettura serverless quindi è basata su eventi, ha una scalabilità event driven, cioè succede qualcosa da qualche parte, io voglio reagire, la piattaforma mi aiuta perché reagirà in maniera opportuna e scalerà in maniera opportuna in base agli eventi, ma insomma quello che succede è qualcosa capita, che ne so, in uno storage arriva una chiamata web, un HTTP o un timer, mi parte un pezzo dei codici, una function è uno snippet di codice, ok? E già questo vi avvicina al testing perché poi daremo la definizione di unit testing, ma un pezzo di codice è quello che noi di solito testiamo in uno unit testing, quando lavoriamo ad oggetti testeremo il metodo di una classe, se la nostra function è un metodo, è una funzione, è un pezzo di codice, noi andremo a testare in maniera unitaria quella, in ogni caso diversi linguaggi, C-Sharp, F-Sharp, JS, Java, PowerShell, Python, sono tanti, la cosa carina è che, carina, è che per come sono strutturate le Azure Function girano all'interno di un runtime cross platform e quel runtime in realtà è la magia che vi aiuta a testarle localmente, a farle girare localmente, a fare il debug localmente, a portarle su Azure in un ambiente pass, che è quello delle Function, ma perché no chiuderle tramite un prodotto che si chiama KEDA all'interno di un container e farle girare dentro Kubernetes o farle girare, far girare runtime con le Function dentro una Raspberry, quindi è vero che le Function sono Microsoft orientate al Cloud Microsoft, ma in realtà girano su un runtime, quindi in linea teorica non c'è un vincolo. La cosa interessante è che questa freccia scura qua ha un nome, questa freccia scura si chiama Trigger ed è il componente della piattaforma Function che fa partire il mio pezzo di codice, ok? Ne esistono una ventina, non tanti, di tipologie di Trigger, per esempio c'è il Trigger che mi sveglia la funzione a seguito di un documento scritto in Cosmos DB, non c'è un Trigger che mi sveglia la funzione quando qualcuno scrive una riga in SQL, non c'è non perché SQL c'è sta antipatico, ma perché in realtà il mondo delle Function nasce sopra il mondo dei WebJob, i WebJob sono estendibili e quindi anche le Function sono estendibili, quindi io potrei creare il mio Trigger, poi cerchiamo di capire perché ha senso scrivere un Trigger, il Trigger deve esserci, una funzione parte perché c'è un Trigger, quindi almeno un Trigger ci deve essere e uno solo. Però poi dopo nel mio pezzo di codice io dovrò interagire con il resto del mondo perché se non è fine a se stesso, magari dovrò scrivere qualcosa o chiamare un servizio esterno, mandare una mail, che ne so, qualsiasi cosa, quindi ho una serie di Output nella mia Function, uno o più, nessuno, uno o più, ma disegnamente con nessuno ce fate poco, almeno uno ce n'avete, insomma. L'altra freccia, quella nera lì, l'altra nera freccia col coso rosso sopra che poi togliamo, quella si chiama Binding, avete, i Binding possono essere in Output, in Input, perché potrei a seguito di un evento dover leggere qualcosa o bidirezionali. Anche qui ne abbiamo una ventina, no? E anche qui non c'è il Binding per SQL, per esempio, quindi anche qui, siccome le Function sono sopra, sono appoggiate sull'infrastruttura dei webjob, mi posso creare il mio. Non è così complesso farlo. Poi magari vi do, troverete nella documentazione, ma magari se andate sui miei vari repository di GitHub, ce ne sono un paio, tra cui uno che contiene anche le demo di questa sera, in cui ci sono due trigger e due Binding, addirittura anche per SQL, quindi se riesco a scriverli io, ci riesco a scriverli tutti, quindi è tranquillo. Quindi l'idea è pezzo di codice, qualcuno me la sveglia, ho la possibilità di interagire col mondo esterno. E ci mettiamo da parte le Function. Parliamo di Unit Testing, qui uniamo le due cose. Unit Testing, ci sono diverse scuole di pensiero, in realtà ce ne sono due, una si chiama la scuola classica e l'altra la scuola di Londra, insomma se leggete il libro su Unit Testing è così. L'idea è quella di, io ho un pezzo di codice unitario, cioè meno di così non posso testare, quindi per esempio la mia Function è perfetta, quello che faccio è dire ok, ma io voglio solo testare il comportamento di quel pezzo di codice, quindi quello che dovrò fare è se questo pezzo di codice va ad interagire con il mondo esterno, togliermi di mezzo il mondo esterno, non tanto toglierlo, ma sostituire con qualcosa che io sono sicuro di come reagisce in quello specifico scenario che sto testando. Se ci pensate, quando la Ferrari prende una macchina e sbatte contro un muro, Denton ci mette un essere, spero di no, non ci mette un essere umano, ci mette un omino, il dummy, che è esattamente come comportamento simile a un essere umano, non è un essere umano, assolutamente non lo è, ma è uno stab, è un mock, è un qualcosa che sostituisce per comportamento l'essere umano e quindi in realtà sostituisce e riesce a ottenere dei risultati dal test, ma non è esattamente come l'essere umano, motivo per cui poi quando la macchina per strada va a sbattere, sì nel 99% dei casi quello scenario è stato testato, ma non è così nel 100%, è ugualmente da noi, perché noi dovremmo sostituire le referenze esterne con qualcosa di cui sappiamo il comportamento, quindi la cosa più difficile nelle function è capire come andare a sganciare tutte le varie reference, in realtà vedremo e ora vedremo subito che non è così difficile, perché per come è strutturata l'architettura delle function e per come sono scritte, molte delle referenze esterne sono già unit stabili, sono già pensate per essere testabili e come al solito quando ci mettiamo la roba nostra dentro, che dobbiamo farlo in maniera sicura, quando noi metteremo le nostre dipendenze dovremmo fare in modo che queste dipendenze siano estraibili, in qualche modo sostituibili, capiamo quale sono però le dipendenze, allora la mia function dipende sicuramente dal trigger, dai binding, dove ce ne sono, dall'infrastruttura, perché poi vedremo che in realtà l'infrastruttura mi dà un po' di interfaccia, in particolare quella del logger, un po' di diciamo referenze con l'infrastruttura sottostante, quella del logger e poi la cosa più difficile è i miei servizi, perché io posso usare le mie classi all'interno e quelle dovrei sostituirle in qualche modo, ok? Non è diverso da quello che facciamo, che dovremmo fare normalmente, diciamo che da questo punto di vista, ora lo vediamo subito, la function ci viene d'aiuto, perché come è fatta fondamentalmente una function? Questo è un esempio, questo esempio lo trovate nella demo, quando voi create una function da zero, quello che fa il wizard per voi è crearvi una classe statica, con un metodo statico e come vedete ha questa forma, voi quello che andrete a testare, che dovreste testare è questo run, questo metodo run, che come vi dicevo è un pezzo di codice, a prescindere da quello, da come viene lanciato, da cosa fa, questo pezzo di codice ha sempre un trigger, in questo caso il trigger è sempre definito da un attributo che dice guarda questo è un trigger di tipo http, questa function verrà svegliata a seguito di una chiamata http, in particolare una get, e ha un payload, questa http request, allora se la analizziamo, ci estraiamo da tutto il contesto e analizziamo solo questo, allora l'attributo in .NET, questo vale per .NET ma in realtà è comune, l'attributo non è un qualcosa che ha senso nel codice in quanto tale, ma ha senso a runtime, cioè quando questa girerà in un runtime, quello delle function, la function saprà che si aspetta un trigger http, ma se lancio il run in un test, che sia un http trigger, è solo un di cui, o meglio è solo evidenziato dal fatto che il payload è un http request, cioè il trigger quando sveglia la funzione, gli passa una serie di dati che sono tipici dell'evento accaduto, in questo caso è una chiamata http che voglia che gli passa una richiesta http, se avessimo un trigger cosmos, gli passerebbe l'oggetto inserito in cosmos, ok? Per cui l'attributo non entra nel mondo del test, perché è un qualcosa che viene utilizzato a runtime, meglio, ci colleghiamo di mezzo, è come se non ci fosse. La classe http request, questo oggetto che c'è qua dentro, è una classe poco, plain all, sia l'ar, object, cioè è un qualcosa che è moccabile, cioè che è sostituibile, quindi per quanto riguarda il trigger, la piattaforma ci viene in aiuto. Vediamo il binding, al solito il binding è sempre definito da un attributo, quel table, che dice che io sto interagendo con uno storage, in particolare con la parte table, con le table dello storage, chi se ne frega, quella non entra nel mondo del test, quella entra solo a runtime e dirà a runtime delle function guarda che questo vuole scrivere in una table, preparagli la connessione e ce lo leviamo di mezzo. In genere il payload del binding, anche il binding ha un payload, non è un oggetto, ma è un qualcosa che mi permette di interagire col sistema esterno, evidentemente serve a quello e quindi in particolare un'interfaccia. Quando vedo un'interfaccia nello unit test io sono contento perché è moccabilissima, faccio come mi pare, ok? Anzi, è la sagra del mock perché con l'interfaccia faccio quello che voglio, per cui anche da questo punto di vista siamo a posto. La piattaforma? Beh, fortunatamente nel mondo dotnet la piattaforma, le function sono appoggiate su dotnet core e quella è fatta discretamente, quindi la piattaforma in genere vi dà, vi inietta, vi mette a disposizione delle interfacce. Come ho detto prima, quando vedo un'interfaccia sono contentissimo perché mocco come voglio, ok? L'interfaccia è veramente la sagra del mock, o come potremmo chiamare. Perfetto. L'unico problema è come al solito quando ci mettiamo le mani noi. Quindi guardate qua, io sto usando all'interno della mia function, poi ve la faccio vedere un calcolatore, questa è una function che riceve una chiamata get, riceve una chiamata con tre parametri che sono quanti soldi vuoi, in quante rate vuoi pagare, qual è l'interesse che noi chiediamo, ok? E restituisce quant'è la rata, ok? E quindi ho un calcolatore di rata perché? Perché la function è il componente che gestisce l'evento, nella function voi non inserite il calcolo, lo inserite in un servizio esterno, potreste scegliere di creare il vostro binding per il servizio esterno, in questo caso è una semplice classe che fa un calcolo, ma perché no? Potreste usare una classe che già avete, l'avete già creata per il vostro sito web e volete usarla. Quindi io qui che faccio? Da bravo sviluppatore quale sono, me lo creo, faccio il new, uso l'interfaccia perché io so figo, uso l'interfaccia e lo uso qua dentro. Benissimo, peccato che questo non è immoccabile perché viene sempre creato, è vero che uso un'interfaccia ma lo creo staticamente qua quindi non funziona e d'altronde questa è una classe statica quindi posso far poco di diverso, c'è poca roba da poter fare. Allora il trucco qual è? Eh vabbè, siccome siete più bravi di me il trucco è sempre lo stesso, dependency injection. E sono fortunato perché? Perché le function sono basate su Asprent core, web job ma anche Asprent core e quindi è la morte sua. Le function mi danno le interfacce, i payload, dei trigger e dei binding e quindi mi aiutano da quel punto di vista. D'altra parte sono scritte su Asprent core e quindi poiché sono su Asprent core, Asprent core supporta dependency injection e quindi è il cacio sui maccheroni, ok? Perfetto. La dependency injection sta all'informatica come il cacio sui maccheroni, ok? Quindi è perfetta. Si tratta solo di capire come usarla. Questa è l'unica cosa importante di tutto sto meetup, quindi boba dico così se andiamo a casa. Quindi in realtà è proprio quello. Se uso dependency injection ci faccio in modo che quel mock, che scusate, quel mortgage calculator non sia lui ma sia passato dalla piattaforma. Come fa la piattaforma già per i trigger e per i binding? Io sto, la morte è sua. Quindi in realtà non c'è più bisogno che mi creo il mio binding custom. Poi si possono fare dei ragionamenti e lo facciamo sui costi. Perché avrebbe senso un binding custom piuttosto che crearmi la mia classe che magari già ho perché la uso in un sito web. Però questa è la strada. Quindi se la mia classe è legittima, la faccio diventare una classe standard, creo chiaramente un costruttore che mi permette di iniettare a questo punto l'interfaccia e poi sarà la piattaforma runtime a darmi l'effettiva istanza di quell'interfaccia, sto a posto. Perché in questo caso io mocco quello che voglio. Anche il mio calcolatore esterno 1, 2, 5, quelli che vi servono, sono tutte interfacce. Quindi sto proprio benissimo e quindi mi posso permettere di scrivere una cosa del genere. Quando lo testo dico sai che c'è? Questa è la sintassi di MockU. Io uso MockU ma qualsiasi, anche a Manel, anche con metodo Coleman lo potete fare il Mock o lo Stub, ma in questo caso questo è uno Stub in realtà, non è un Mock. Però vabbè, mi creo un qualcosa che si comporta come il Mortgage Calculator, anzi esattamente so come si comporta e ti dirò che quando gli passerà questo Mortgage Loan, questo valore, quest'altro valore e quest'altro valore dovrà ritornare quello che mi aspetto. Così ho staccato la dipendenza rispetto al Mortgage Calculator, le altre dipendenze me le ha staccate dalla piattaforma e posso scrivere il mio test. Vi faccio vedere come. Fino a qua sono buono anch'io, cioè sono buono anch'io, quindi in realtà è facile. Allora, vediamo un po'. Ah no, è finito questo che sta proprio su... Ah, non sapevo che si potesse... Vabbè, non era lì la mia... le mie slide. Va bene, prendiamo il codice, poi questo ve lo trovate su... sul mio GitHub, vi do il link alla fine. Allora, quindi qui trovate sia la versione static, scusate, così si vede meglio, sia la versione normale. Passiamo su quella normale, quella static è per i pivelli, noi siamo bravi. Esattamente è quella che avete visto, insomma c'è stato... gli è stato tagliato qualcosa perché non c'entrava tutto, ma insomma avete un costruttore con parametri in cui passate le vostre referenze, per il resto sfruttate la piattaforma, perché la piattaforma vi dà delle classi qui e delle interfacce, per cui già è tutto moccabile. Dopodiché quello che fa qua dentro ci interessa poco, tanto è codice, non è che stiamo facendo di particolare, va a recuperare i parametri, fa il calcolo, fa il calcolo della... del mortgage, del... non mi viene, vabbè, insomma del prestito, del mutuo, scusate, del mutuo, crea la response perché questa roba in realtà qui non sta scritto nessuna parte, in realtà sta scritto qua, questa function ha due binding, un binding che è quello verso la tabella, perché poi scrive anche la richiesta di prestito all'interno di una tabella, ma un binding è anche quello in uscita, questo restituisce una response, un HTTP response, quindi in realtà questa function c'è anche un binding in uscita, ma questo è come vedete è un high action result, quindi ancora di più, in realtà qui non lo devo moccare, devo solo testarlo, quindi va benissimo. Quindi non è un problema quello. Vediamo come dico che tutta sta roba funziona, perché se non funzionasse st'iniezione qua, ok, è un po' come il bacino, se non funziona l'iniezione qua non funziona niente. Allora qui avete due modi, come ben sapete Aspenet Core prevede la possibilità di avere uno startup, ma in questo caso non siamo su Aspenet Core puro, siamo su Webjob, quindi avete due modi possibili. Allora un modo è sfruttare un attributo di assembly che si chiama function startup che dice alla piattaforma guarda quando fai partire l'hosting delle function, quindi se sei su Azure in Azure, ma se sei on-prem quando fai fai come startup partire questa classe che deve derivare da questa function startup e come vedete qua dentro avete un high function host builder, in realtà non è altro che un'interfaccia che deriva, 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 da quella che avete in Aspenet e quindi potete aggiungere all'elenco dei servizi che il builder ha a disposizione il vostro calcolatore. Un altro modo, proprio perché siete in una piattaforma che è quella del Webjob, è quella di invece sfruttare lo startup del Webjob, quest'altro pezzo di codice se togliete questa diventa improvvisamente attivo, ok, ed è esattamente identico, l'attributo è simile, la classe deve però implementare questa interfaccia, qual è la differenza? È che la prima vi serve se volete solo usare Dependence Injection, quindi nella grande maggioranza dei casi, ma se avete implementato anche le vostre estensioni del Webjob e delle function, per esempio dei vostri trigger, con la prima non potete aggiungere le estensioni del Webjob, con la seconda sì, quindi dipende quello che dovete fare, ma insomma come vedete infatti avevo messo questa, l'altra ve l'ho lasciata solo come reference, ma insomma qui ho aggiunto, qui aggiungo tutte le dipendenze, e quindi siamo a posto, adesso scriviamo il test, perché noi abbiamo preparato il tutto, ma bisogna scriverlo, beh vabbè non so voi che cosa usate, io sto usando Xunit, fatemi controllare se è quella con Xunit, sì sto usando Xunit e MocQ, qui non è una questione dei gusti, il framework di test usate quello che vi pare, a me piace Xunit perché c'è la possibilità di scrivere facilmente test con set di dati, e MocQ perché è semplice, lo riesco a usare pure io, vediamo come è scritto un test, per esempio questo, allora, sto testando il metodo Run, va bene, mi sono preparato una serie di set dati, in particolare quando questo richiede 100.000 euro a un tasso del 6% in 180 rate, mi aspetto questo valore di ritorno, perché? Perché questo mi serve per settare il comportamento del Mortgage Calculator, ok? Benissimo, poi questo test che cosa fa? Il metodo Run, i parametri sono corretti nella query string, il calcolo è ok, quindi se i parametri me li passi corretti e il calcolatore lavora come se deve, tutto funziona, è uno dei test possibili, poi potrei provare cosa succede se non mi passi un parametro e così via, quindi quello che faccio è, attenzione che qui esce, viene il mal di testa, tracked, vado a settarmi tutto quello che mi serve, qui la cosa difficile è scrivere il test, perché in realtà di roba in giro ce n'ho molte, però una volta fatto uno e capito come funziona, viene facile, quindi che cosa mi faccio? Mi preparo la request, quindi dico guarda è un HTTP request che ha qualcosa nella query string, questo è un modo che, questo è il modo di MoQ di lavorare, ma ognuno poi c'è il suo, è come il framework di test, il framework di MoQ sono come le mutande, ognuno c'ha le sue, quindi io preferisco queste, ma un altro potrebbe preferire un altro. Quindi dico quando qualcuno ti chiederà la query string con questa chiave, restituisci questo valore, perché stringa, restituisci questo altro valore, restituisci questo altro valore, quindi qui mi sono assettato la richiesta. Qui mi sto assettando il calcolatore, gli dico guarda mi fai un MoQ per questa interfaccia e voglio, il suo comportamento deve essere tale che quando verrà chiamato il metodo Calculate Monthly Rate Async con questi valori, tu restituisci questa risposta, quindi so che il calcolatore si comporta come voglio, ho messo l'omino dentro la macchina, ok? Poi vado a settare il collector che è l'interfaccia che la piattaforma mi darà quando in produzione, quando andrò nell'environment di runtime, per scrivere dentro la tabella e me lo setto perché gli dico guarda siccome voglio testare il fatto che quando qualcuno fa una richiesta di un prestito venga scritta una riga, io voglio, gli dico guarda quando qualcuno ti chiederà il metodo ADD che è il metodo con cui aggiungete una riga a tabella, tu segnati che l'ha chiamato perché io poi farò un test dopo per vedere se è stato effettivamente chiamato, quindi non testo solo il risultato ma testo anche che effettivamente dentro venga chiamato il calcolatore e venga chiamato al salvataggio sulla tabella, poi come viene fatto in produzione? Quello è un problema del binding, non è un problema mio, il mio pezzo di codice funziona, se c'è un errore in quello scenario non dipende dal mio pezzo di codice, sarà qualcun altro evidentemente. Poi dico creami un mock per il logger ma non voglio farci nulla, non voglio testare nulla, a questo punto creo il mio oggetto da testare, la morte gauge function, passandogli il mock del calcolatore e poi chiamo il metodo run, questa è la cosa più semplice del test, è una chiamata, ok? E io guardo, ok, chiama la run, perfetto, quindi ricordatevi unit test arrange act assert, ok? Anzi, la cosa interessante è che il titolo di questa sessione è in onore di, secondo me il più bel libro sull'unit test che abbia letto che è The Art of Unit Testing, infatti la sessione si chiama The Art of Azure Function Unit Testing, proprio per questo, se potete vi consiglio di leggerlo, peraltro è arrivata la terza, adesso ho scoperto che c'è la terza edizione quindi ora vado a comprarmelo subito, però è veramente interessante, poi ce ne sono anche altri ma quello è molto interessante. Nella parte di assert cosa faccio? Verifico che la risposta sia ok object result, è quello che mi aspetto, poi me la prendo, verifico che il valore sia il rate che mi aspetto, ok? Perché quella è la risposta e verifico che effettivamente sia stata chiamata la tabella, qui in realtà potrei essere un po' più specifico, potrei verificare che effettivamente la tabella è stata chiamata per inserire quello specifico record, non sono entrati in dettaglio, però è che sia chiamata una volta sola, quindi che non ci siano più chiamate, finito, questo è il mio semplice test, poi si può razionalizzare quello che vi pare, però il concetto è questo, a questo punto io posso fare quello che voglio, per esempio se vengono passati dei valori a cavolo, per esempio il denaro richiesto qualcuno vi passa velio, ricordate quella è una query string, quindi la storia ci vuole una qualsiasi cosa, anche Pippo, Pluto e Paperino, qui potremmo testare che Pippo funzioni o non funzioni, ok? e quindi potrei fare il test con i dati che non sono giusti e quindi cosa mi aspetto? Mi aspetto un errore, mi aspetto un'eccezione, insomma, quello che vi pare, però capite che qui è solo una questione di schifo, un test, ho una function, sto sfruttando magari una classe che già c'è velo, quel Mortgage Calculator potrei già avercelo e in più me la sto testando, fidatevi sta roba gira, nel senso che se poi la provate nel test explorer, vediamo se, vabbè l'avevo girata poco fa, ma insomma, questi sono i vari test, tra le altre cose trovate anche i test sul Mortgage Calculator, l'implementazione che io ho, che è molto semplice, quindi questi qua, per ognuno di questi avete un test, quello è un set di dati, quindi per quel test viene girato per il numero di dati, quindi quella roba potrebbe essere presa da un file che contiene i casi di test, per cui c'è poco da fare, a questo punto sono test normali, quindi il trucco è, sfrutto il fatto che la piattaforma già mi dà alcune cose testabili, i binding, i trigger e il log della piattaforma, volendo c'è un'altra, altre due firme che potete usare nelle function che iniettano altre funzionalità di piattaforma e l'altro trucco è che comunque devo sfruttare, ma questo lo farei, lo dovrei far comunque e posso farlo perché le function sono appoggiate sopra, web job appoggiato sopra Smart Core, quindi posso sfruttare tutti i meccanismi di dependency detection che c'avevo, quindi se aspettavate la scienza dei missili siete rimasti delusi, per ora, ora, ora arriva il bello, forse, che non sono io ovviamente, perfetto, monitoring, beh vabbè monitoring è ancora più semplice, c'ho il logger, quando c'ho il logger c'ho tutto, in realtà la cosa carina è che questo logger è esattamente lo stesso logger che ho in Smart Core e questo mi aiuta in tante cose, intanto con la configurazione, ora poi vi faccio vedere, è configurabile, mentre in Smart Core è configurabile a livello di runtime, a livello del mio pezzo di codice, a livello di categorie di log, qua volendo lo posso, qui non ho le categorie di log, le categorie di log sono la function app che contiene le mie function o la singola function, quindi potrei dire la function che calcola il muto me la metti in verbose, perché voglio capire che fa, le altre function invece in error, solo gli errori, quindi posso usare quella granularità, ora lo vediamo, lo vediamo subito. Dentro al portale, poi ve lo faccio vedere nel portale, avete già tutto un elenco di esecuzioni, nelle function ha senso non un log continuo, ma il log per ogni esecuzione, il log vi farò, l'esempio che vi faccio vedere è una function che gira da due anni circa ogni 15 secondi, quello che fa, come tutte le mie applicazioni, una volta su cinque va in errore, anzi questa è anche particolarmente scritta bene, una volta su cinque casualmente va in errore, quindi quello che ho è che per ogni esecuzione, lì non ha senso andare a studiare l'intero log, ma ha senso studiare una singola esecuzione, quelle sono event driven, quindi evento A, log, evento B, log, non ha senso studiare tutto e questo il portale già mi aiuta perché mi dà la possibilità di andare a vedere il dettaglio della singola esecuzione e magari di aprirmela in application insight perché il trucco è che quell'ilogger quando lo porto su Azure mi diventa un redirect del log verso application insight. Come lo faccio? Semplice, come? Ma Massimo che guarda è molto simile a quello che facciamo sull'app service, eh grazie, le functions sotto c'hanno un app service, perché alla fine la function se gira su un web job gira dentro un app service, fatto sta che quando create una function app le opzioni che avete di lato a parte un paio, un po', il resto sono quelle dell'app service e lui crea anche un app service plan che ha suo uso e consumo perché qui siamo in un mondo serverless, però è del tutto identico, quindi la configurazione è la stessa, io schiaccio qua dentro in questo app insight underscore instrumentation key, l'id dell'application insight e lui automaticamente boom mi butta tutti i dati che mi servono dentro application insight, posso filtrarli, chi conosce Aspenet Core riconosce questo, questa è la definizione del log che c'è in Aspenet Core, funziona esattamente identico, l'unica differenza è che avete un default che vale per qualsiasi cosa all'interno del mondo Azure Function, un function che vale per il vostro codice nella function app se non configurate diversamente, function punto nome della funzione e questo configura il log all'interno della singola funzione, quindi qui per esempio in tutte le function trace ma dentro la timer trigger function che è quella che va in errore una volta ogni 5 ho le information, quindi posso andare a muovere i miei leveraggi per fare monitoraggio e poi per esempio la parte relativa al runtime, questa mi dà informazioni sul runtime, è quello che succede esattamente in Aspenet Core ma voi avete, qui di solito avete le categorie che potrebbero essere i controller, potrebbero essere i vostri componenti, insomma quelle che si chiamano categorie di log, qua la categoria è function punto nome della funzione, la singola function, quindi riuscite a essere abbastanza puntuali da questo punto di vista. La cosa carina è che non ho capito perché non so se è già stato portato anche in Aspenet Core, onestamente non ne ho idea, esiste un metodo di estensione che sta nel web job in realtà, non sta nelle function ma sta nel web job, ora ve lo faccio vedere, che vi permette di loggare anche delle metriche custom, quindi normalmente nell'iLogger voi trovate log punto trace, info, information, debug, trovate anche il log metric, nella mia function viene generato, quando non va in errore, viene generata una my custom metric con un numero casuale e questo non è secondario perché vi consente di buttare dentro alla parte di application site delle metriche, quelle metriche potrebbero influenzare, a parte che vi danno un'idea di come sta andando la vostra applicazione, magari sono delle metriche di business, ma magari possono essere usate, ricordatevi che in Azure c'è la possibilità di creare alert, quindi potrebbero essere utilizzate per far partire degli alert che vi avvertono in maniera preventiva o proattiva se sta succedendo qualcosa di particolare, ok? Normalmente, io non mi ricordo, l'ultima volta che ho usato Aspenet Core, sta roba dentro la parte delle estensioni di Aspenet Core non c'era, poi non ho capito perché sono andato a vedere quello, poi ve lo faccio vedere, sta nell'estensione dei job, in realtà poi se andate a prendervi la DLL del web job e ve la tirate via sotto le righe dei codici, quindi volendo ve la potete riscrivere, però insomma è interessante questa cosa, c'è già out of the box. Quanto mi costi, c'era una pubblicità che era dalla team se non mi ricordo male, quanto mi costi, quanto mi hanno, ma quanto mi costi, allora come si fatturano le function? questa è sempre una disquisizione, ah un milione chiamate al mese, no, allora voi pagate, avete gratis, out of the box signori e signori, venghino signori, venghino a vedere le bestie del circo, avete gratis un milione di esecuzione e o 400.000 GB per secondo, perché? Perché voi in una function pagate l'esecuzione, il fatto che l'avete lanciata e quanta memoria occupa, per quanto tempo dura e questa è la motivazione per cui è opportuno, a parte che non potete farla durare più di 10 minuti in un consumption plan, ma è la motivazione per cui la vostra function deve essere scritta bene, perché deve occupare meno memoria possibile e durare il meno tempo possibile, in questo modo ne fate girare tante senza pagare. se voi fate una funzione che occupa ogni volta che parte un giga e che dura un secondo, voi non ne fate gratis un milione al mese, perché se fate un milione di esecuzioni, voi raggiungete un milione di gigabyte secondo, quindi un po' le pagate, quindi attenzione non è solo un milione come numero di esecuzioni, ma anche l'occupazione e il tempo di esecuzione, quindi non è semplicissimo stimare il costo delle function, cioè in realtà non è che sta sto costo drammatico. Facciamo un esempio, immaginate, quindi questo dice, ho pure una spiegazione, questo dice che se avete una funzione che usa un giga e dura un secondo, voi la pagate, quella singola esecuzione, la pagate 0.00014 euro, ok? Ogni volta che viene eseguita. Se avete, se fate girare le vostre funzioni per due milioni di volte, un milione è gratis, per l'altro milione pagate 0,169 bla 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 bla. Facciamo un esempio, immaginate di avere una funzione che gira ogni secondo, ok? Che ha la durata di un secondo e che occupa 512 mega del nuovo, non è tanta roba, però la supponiamo così, fa due conti semplici. Allora, cominciamo. Quanto mi costa come consumo delle risorse, non numero di esecuzioni, ma consumo di risorse? Il numero di esecuzioni mensile è 2.592.000, ho rifatti i conti diverse volte, probabilmente il numero, questo è il numero di secondi in un mese. Il numero di secondi in un mese, quindi sono 2.592.000, perfetto. Per 0,5 giga, perché 512, quindi voi consumate 1.296.000 giga secondi al mese, quindi poiché ne avete 400.000 gratis, voi consumate, pagate, scusate, 896.000 giga secondi, per un totale di, per 0,12 euro, quindi attenzione che questa qui vi costa 12 euro solo di risorse. Poi c'è l'esecuzione, l'esecuzione è semplice perché sono 2.500.000 meno 1.000.000 gratis, totale 1.500.000, se me fai i conti della spesa, dunque vabbè, quello che sia, cioè 1.592 per 0,169, quindi per le esecuzioni pagate poco, come vedete non pagate tanto le esecuzioni, pagate tanto l'occupazione memoria a tempo, ok, però questa è una, insomma, una function che dura un secondo e 512 mega di memoria ogni secondo, io mi farei due conti sul fatto che forse non si può fare in altro modo, però diciamo che va bene. Quindi in totale il costo dei miei 2.500.000 è passa, eh, esecuzioni dei functions sono 12.800.000, ok, quindi attenzione sui conti, ovviamente non è una cifra, oh, ma una volta al secondo 512 mega di memoria occupata ogni function, eh, è al ruolo da un secondo, insomma, cioè, insomma, non è scritta benissimo forse, si può fare meglio, però può succedere, il costo è 12 euro, 13, ma va, 0,20 centesimi la lasciamo per mangio, 0,20 centesimi la lasciamo per mangio, quindi attenzione, vediamo un po' di monitoraggio, poi vi lascio andare a casa perché ora. Allora, 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 dove è il portale, dove è il portale, datemi un portale, cosa ne vuoi fare, dove sta il portale, oh, ma sono perso, mi sono perso il portale, sei stato tu a buttarlo giù, vero? Ok, allora, qua, andiamo velocemente un po' di roba che abbiamo per il monitoraggio, poi abbiamo finito, eh, poi vi lascio andare a casa. Lei c'ho altri 10 minuti, oh, non ha già la miseria, voglia. Allora, per chi conosce come è fatto un app service, per chi non lo conosce si vive anche senza, potrete vedere che tutta la parte che c'è qui e sotto è esattamente quello che sta in un app service, non proprio esattamente, ma abbastanza simile, l'unica cosa che cambia è l'iconetta dell'app service plan che è verde anziché blu, ma insomma ce ne faremo una ragione. La cosa che cambia è la parte relativa alle function, ok? Questa. Però già quando entro qua, io ho intanto il memory working set e questo ce l'ho anche che cambia è veramente. credo abbiamo perso Massimo sì l'abbiamo perso aspettiamo un attimo dai sì sì aspettiamo che ritorna oh l'aveva detto che sarebbe cresciato tutto appena apriva la console Azure Ivano che per caso hai fatto un rilascio su Azure? no 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 non ho toccato niente non è colpa mia non è stato colpa mia sì 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 sicuro sicuro l'ho fatto io proprio fa ah è un vero se trova sempre a chi dare la colpa ma funzionava qualcuno l'ha cacciato che poi quando vai su Azure non puoi neanche dire sulla mia macchina funziona Ivano quindi non è è vero pure esatto esatto tu mi hai detto no il cloud non è altro che un server di qualcun altro esatto come diceva il mio professore si stupirebbe Francesco pensare che con dei grafici ci siamo sentiti quella risposta comunque esatto Massimo ecco di mi sentite mi sentite scusate ma è andata giù la linea la linea internet sto col telefono vieni pazienza tranquillo no per un attimo l'ho detto infatti mentre voi non mi avete sentito ma ho detto Ivano sei tu che è andato giù la connessione ma adesso devo solo ritrovare quale era giusto perché mi ha le pazienza ma arretto da stamattina alle 8 che sto in in mi sposto sapevo che doveva succedere qualcosa ok allora non so dove eravate arrivati ma riparto ricollego al portale quindi quindi nella parte iniziale quando entrate in una function ok ci siamo dentro di nella parte di monitoraggio già proprio per venirvi in aiuto vi da informazioni relative al famoso megabyte gigabyte secondo in realtà ve la da in millibar megabyte al millisecondo ma qui già avete un'idea di quanto state cubando come risorse ovviamente questa roba è globale per tutta la function app quindi non è per la singola function questa roba sta nella nella parte di monitoraggio quindi in linea teorica voi ce l'avete a disposizione quindi riuscite a fare un monitoraggio dei costi tanto per intenderci poi avete globalmente un log qua sotto questo log stream non è altro che lo stream dei log dell'iLogger che viene poi mandato la piattaforma che viene poi mandato verso Application Insight nel mio caso e che contempla anche la parte di piattaforma quindi ciò che fa la function l'applicazione che fa la function non la vostra function ma meglio ancora se andate qua dentro là qui dentro hai la singola function quindi se scelgo l'unica che qui sta girando quella che va in error ogni due per tre ho una serie di funzioni di monitoraggio tra cui quell'elenco di esecuzioni che vi avevo detto ora le vediamo dai su su vediamo Ivano spegni la telecamera che si mette paura è spenta è spenta perfetta allora non è è perché ci sto io quella telecamera allora queste come vedete gira ogni 15 secondi se ne prendo una ho alcuni log in realtà non tutti qui non tutti alcuni con i type ma la cosa carina è che da qua io posso andare direttamente dentro application insight e avere il dettaglio di quella esecuzione che è quello che mi importa lasciamo stare il il custo come è scritto la query qui custo in realtà sapete custo una delle leggende dice che il nome è questo con la cap in onore visto che permette di fare deep diving sui log in onore di già custo hanno chiamato custo è una delle leggende ma insomma questo è custo brutto a piacere una sorta di sequel che mi dà il log in termini di chiamate e di qui c'è un'eccezione quindi in realtà qua dentro io ho anche dove sta da qualche parte il trace il assicuro che ci sta il stack trace posso andare a prendere ma insomma c'è anche lo stack ah no perché qui fa una proiezione ma se vado a prendere le tracce così come so c'ho anche lo stack trace in realtà la parte dell'eccezione io non l'ho tracciato lui che la traccia perché sto in una piattaforma ma la cosa carina è che posso fare anche roba del tipo fatemi chiudere aprirne una nuova di tab io me ne sono preparate alcune questo poi è custo quindi non da qua è custo qua per esempio vorrei sapere andiamo un po' vorrei sapere nell'ultime 24 ore la durata media delle volte che la funzione è andata a buon fine quindi che non ho avuto eccezioni in slot temporali da 30 minuti distribuiti la giornata quindi questa roba qui quello che fa è una tabella che mi dice guarda che tra le 19 le 19.30 di ieri ieri la media durata media della mia funzione è 1.6 quindi questo per esempio unito a quell'occupazione megabit giga secondo quello che sia spalmato su tutte le vostre funzioni vi permette di calcolare più o meno il vostro costo mensile o il vostro costo giornaliero perché se lo fate girare il giorno prima sapete quanta occupato quanta funzioni insomma se tratta di fare due conti matematici poi in realtà non so il massimo esperto di conti matematici anche in teoria dovrebbe esserlo se qui io faccio non mi ricordo mai qual è il comando per aspettate fortunatamente scusa una domanda sì vai vai intanto fateli ma Azure utilizza questi dati per fare i calcoli o utilizza altri dati del più basso livello no no userai i suoi fidati no no c'è anche altri dati lui di piattaforma che tu non hai quindi onestamente non lo so ma sicuramente ha più dati di quelli che non hai tu per cui quelli lui non va a usare questi che tu hai però a te ti dà un'idea no tanto hai visto che lì la differenza potrà essere mezzo euro cioè non non ti sposta da 10 a 100 mila per cui questo ti dà un'idea e quella ti assicura una function non scritta bene perché un secondo va bene come durata ma 512 mega potrebbe essere un problema nel senso che è tanta roba attenzione perché è facile arrivarci a 512 se voi quella classe quel calculator che vi ho fatto vedere prima l'avevate scritta per un sito web ok e dentro ti ditevate su delle dll che ne so entiti framework piuttosto che altro è un attimo 512 no magari però ad occupar memoria è inutile immaginate che quella che quella classe sia in un package in cui dentro c'è anche che ne so un modello di framework però lì dentro non usate quando viene tirato su magari il modello viene creato vi occupa memoria ma voi non lo state usando quindi è figo perché come vi ho fatto vedere potete usare i vostri componenti già esistenti all'interno di una function però attenzione perché se quei componenti occupano memoria inutilmente quella la pagate se fate un'esecuzione al giorno della function immaginate che viene chiamata ogni secondo e magari di quei 512 mega la metà è inutile e non vi serve per la function voi state spendendo 6 euro buttando 6 euro è poca roba però state buttando 6 euro un po' meno di 6 euro ma state buttando soldi quindi attenzione a riutilizzare roba dentro le function se non sapete esattamente che tutto quello che c'è in quel package lo state riutilizzando il suggerimento potrebbe essere nuovo progetto vi portate solo le classi che vi servono e magari lo fate in maniera intelligente con i link e non copiando incollando ok e poi usate quello depurato perché perché nelle function è vero che avete un milione di chiamate ma poi si paga occupazione spazio di tempo comunque questa per esempio vi dà l'andamento temporale della vostra function se può essere utile nell'ultima 24 ore divisi intervallo di 30 minuti ma io potrei anche dire ok un minuto quello che vi faccio vedere è che i tempi di esecuzione sono ragionevoli e magari voglio negli ultimi 10 giorni magari un minuto negli ultimi 10 giorni non sembra eccessivo log degli ultimi 30 gli ultimi 10 giorni mi calcoli la durata media divisa in intervalli da 30 minuti insomma il tempo di esecuzione questa roba è un secondo e questa potrebbe finire in una dashboard ok per cui di monitoraggio ne avete tanti per esempio un'altra cosa che potrei farvi vedere ed è interessante le custom metric faccio una query secca così nelle ultime 24 ore numero di record sono tanti questa sono tutte le metric attenzione che non avete solo la custom metric ma avete anche quelle sue ma in particolare io qui sto collezionando solo l'herbit mi pare se non mi ricordo manco quello però questa è la mia custom metric quindi io su questa posso fare della logica magari la custom metric che sto usando questo è random quindi non mi dice nulla ma magari la custom metric che sto usando mi può servire per capire le mie performance o che ne so il mio sliver sul cliente potrebbe essere usato anche per questo immaginate che nelle custom metric ci possa essere la chiamata al servizio esterno cioè il tempo che impiegate per chiamare un servizio esterno perché magari quel servizio esterno è un servizio terzi e voi non avete monitoraggio sul servizio esterno non avete solo quando lo state per chiamare quando torna quindi vi create una custom metric la durata e poi potete capire quanto il disservizio del servizio esterno impatta sul vostro quindi in realtà di loro potete far tante Massimo ti posso fare una domanda come ho fatto quello che ti pare vai come ti pare perché mi aggancio cioè mi avrei voluto farti una domanda su questo ok è chiarissimo ci sono un sacco di metriche si può monitorare insomma l'andamento delle function ma eventualmente ha senso o meglio c'è un modo per eventualmente staccare direttamente l'esecuzione delle function nel caso in cui vadano per esempio a staturare non so la memoria tu hai giustamente fatto l'esempio con 512 megabyte tu dici se non vuoi spendere se non vuoi esatto se non vuoi spendere troppo voglio mettere un cap un cap esatto allora uno esatto uno non usi il consumption mode ma lo attacchi ad un app service plan ok uno delle modalità con cui tu crei una function app e dirgli consumption ed è stop qua cioè scala come debare scala bestia ok serverless puro oppure gli dici no guarda no serverless puro lo attacchi ad un app service plan e allora lì la capacità di scalare è quella dell'app service plan che hai messo dentro quindi se ci metti uno che costa 300 euro al mese lui scala fino a 300 euro al mese perfetto ok oppure questo è uno e tra le altre cose la scelta che tu fai quando devi mettere in piedi qualche meccanismo immagina che tu le tue function le voglia in una vnet e se tu scegli in consumption quella siamo noi a decidere gira in quel caso tu puoi scegliere come approccio quello premium che è come avere un app service environment quindi è come se tu prendessi un app service e lo mettessi dentro una virtual network quello è cappato e gira dentro una virtual network ok un altro modo ora devo solo trovare il portale perché è un po' che non lo vedo non ci vado c'è la possibilità nelle impostazioni questo non lo salvo tanto ce l'ho nei setting mi pare che sta non mi ricordo se sta qua o si mi pare che sta da qualche parte c'è la possibilità non so se è stata era in previsione di togliere ma non so se c'è ancora qua mi sembra una daily usage quota gigabyte secondo ok quindi lo cappi anche da qua ok attenzione a questo getta la documentazione quindi qui gli puoi dire guarda io voglio consumare al massimo che ne so c'ho 400.000 gigabyte secondo mese beh 400.000 diviso 30 in modo da rimanere nella soglia free è ovvio che cioè scelgo il consumption per avere scalabilità poi mi tarpo le ali però vabbè se volete qua si può configurare ok quindi potete dire che ne so 200 gigabyte sì 200 gigabyte secondo me è giorno quindi giornalmente lui consuma questa quota quando arrivate a questa quota smette di funzionare tutto ok chiarissimo due scelte ipotizzando che abbiamo una function che come avevi fatto poco fa ad esempio chiama un servizio esterno quindi chiaramente non abbiamo il controllo su quel servizio quindi diciamo ci limitiamo tra virgolette a capparlo sulle impostazioni direttamente su Azure o secondo te ci sono alcuni casi in cui ha senso nel codice delle nostre function eventualmente andare a monitorare guarda il servizio terzo ci sta mettendo un pochino troppo a rispondere io sfrutterei io sfrutterei no ma qui non capi perché quello che succede è che quando capi qua non parte la function quindi non è un problema tu devi cautelarti sul servizio esterno quindi tu quello che io quello che farei è mettere in piedi un unismo di di controllo o sgancio il servizio esterno quindi per esempio quello che potrei fare è che quando la function devi chiamare il servizio esterno la function si appoggia a una coda il servizio basso una coda normale sta a voi oppure usa se è un evento sporadico potrebbe usare event grid per direzionare verso un endpoint classico un container che espone un endpoint o qualcosa che poi chiama il servizio esterno in questo modo tu la tua function va a scrivere dentro una coda per esempio e quel tempo è sempre lo stesso o sarà in quel caso sarà il fatto che hai disaccopiato la chiamata e magari poi a quel punto metti in piedi un meccanismo di ritorno quindi la function non sta sempre in piedi potresti farlo per esempio con una durable function quindi sfruttando un workflow di tipo stateful e a quel punto hai disaccoppiato i due componenti però si tratta di scrivere un'architettura un po' più complessa in quel caso però si può fare anche così dipende che servizio esterno è se è un servizio che sta sempre su e risponde nell'ordine dei secondi e una volta ogni sei mesi ci mette che ne so venti secondi oh va bene cioè non mi metto in piedi tutta sta meccanismo ma se è un servizio che due volte al giorno ci mette venti minuti a rispondere probabilmente evito di mandare in time out la mia function perché altrimenti la function poi andrebbe anche in time out in quel caso chiarissimo grazie ci sei? ti quadra? sì sì assolutamente bene bene a questo punto chiudiamo poi chiaro che quando si parla la function se volete sto qui anche 24 ore allora che ci portiamo via da sta roba a parte che è andata via la corrente la connessione come al solito quando non deve va bene allora primo come avete visto scrivere le function non è così complicato anzi dovete scriverle semplici dovete portare esternamente tutto ciò che è possibile ah anche qui usare un componente vostro o scriversi il binding quando scrivete il binding l'iniezione del binding è l'iniezione di tutto ciò che sta all'interno del binding è a carico della piattaforma quindi dipende da come siete organizzati se avete un solo team che voi scriviate un binding o che scriviate la classe dentro è esattamente la stessa cosa ma immaginate che voi abbiate un team bravo e dei team che scrivono le function forse siccome il peso della function sta molto dentro al binding quelli bravi scrivono il binding mettono a disposizione il componente a tutti gli altri che a quel punto non devono istanziarlo se lo ricevono se lo beccano iniettato dall'esterno il binding potrebbe dentro avere n componenti quindi lo potete fare anche con l'injection però dovete iniettare n componenti quindi state semplificando la function comunque la function è semplice è pezzo ai codici ci riesco io a scriverlo quindi probabilmente ci riescono tutti primo testarlo è semplice cioè vi dovete mettere impegno a renderle non testabili nel senso che dovete fare veramente i pork around per renderle non testabili cioè banalmente basta farla diventare una classe e mettere il costruttore e abilitare la dependency injection non dovete neanche fare niente di particolare il log è gratis i trigger e i binding ve li metto a disposizione già testabili cioè ci dovete mettere il vostro poi sarà difficile scrivere il test va bene però rendere la function testabile non è così complicato il monitoraggio tutto sommato è out of the box io ho solo configurato alcune cose ma niente di che anche il capping è out of the box quindi il trucco quindi perché non usarle ci sono le motivazioni girano in tutto il mondo quindi devo mettere in un app service plan quello che però a livello tecnico non è né difficile scriverle né difficile testarle né difficile monitorarle quindi hanno senso quando hanno senso ok quindi quando la mia architettura è event driven se c'è un batch no ovviamente ma se c'è un architettura che deve reagire a degli eventi vabbè tenete tenete l'incontro poi non sono così complicati ribadisco io quindi altre domande finalmente sapete come mi chiamo ma lo sapete già da prima sapete dove lavoro ma lo sapete già da prima questa è la mail è il twitter è linkedin un po' di fregnacce mi faccio sempre solita pubblicità al libro ormai è vecchio perché è di novembre del 2019 però insomma alcune cose che stanno qui le trovate anche lì quello è nella versione 2 siamo alla versione 3 delle function ma insomma soprattutto perché è scritto da Lorenzo non da me per cui questo libro ha senso vabbè sono qua ragazzi quindi ah vi ho lasciato anche i reference ve lo metto qua questo è il questo è grazie ancora a tutti e buonanotte salve buonasera ciao ragazzi buonasera grazie 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 ancora grazie a tutti grazie a tutti